Grillo vagante, certo, abbiamo sentito poco fa il nostro direttore Giancarlo Leone spiegare che è attesa l'intervento di Grillo Stanno gelando, Barbara Gasperini, buongiorno, fa freddo la sua Ciao, buongiorno Assolutamente sì, tutti si stanno E invece E invece, per quanto riguarda l'ospite di questa sera, ovvero Liga 2 Ci sono molte cose divertenti nel settembre Sosera? Vabbè, allora andrò anche Grillo Allora andrò anche Grillo Va bene, grazie Jacopo per essere stato con noi Mi direi, indubbiamente è stato un gran trampolino di lancio Ecco, questo è il passato di quelli che verranno, nel senso, li abbiamo presentati Vorrei ritornare a Sanremo per conoscere Bianca Perché stasera verrà presentata una giovane nuova proposta tra le otto Una voce potentissima mi dicono Sarai la nuova Giorgia, sarai la nuova Pausini Sì Tutti dibattono, tutte le posizioni Iniziano da 1 mattina Iniziano da 1 mattina E mi raccomando, non mancate questa sera perché è il grande debutto di Sanremo Fazio, Litizzetto, ci sarà la casta Super ospiti, davvero Signori, vi ringraziamo, grazie a tutti gli ospiti di Sanremo Grazie a Barbara Gasperini per essere stata con noi In bocca al lupo E adesso è l'onora da dire con una mattina al Sariavere E noi ritorriamo tra poco col verde E stasera Sanremo E noi domani Sanremo, stasera Grazie a tutti